Buongiorno e ben ritrovati cari telespettatori di FanoTV, questa è la rassegna stampa del mattino, oggi è sabato e siamo qui in diretta come tutti i giorni per sfogliare i giornali, anche se questa mattina sfoglieremo con piacere il Corriere Adriatico perché ha tante pagine, tantissime pagine anche di cronaca locale, stiamo parlando dell'edizione di Peso Rubino, quella che abbiamo sul nostro touchscreen tutti i giorni, mentre anche oggi purtroppo c'è un problema che non dipende certamente da noi, da parte del resto del Carlino, nello scaricamento e nella fornitura delle pagine in PDF. Allora andiamo adesso invece però prima di cominciare a vedere il santo del giorno e poi le previsioni perché cambia il tempo, oggi è San Giovanni Eudes, il suo esorto è un quarto e tramonterà le 20.07, dicevo andiamo però a vedere un attimo il tempo, non facciamo prima il tempo, ok. Allora il tempo, qui siamo su trebimeteo.it, il tempo del mattino, del pomeriggio, poi verso sera aumenta la nuvolosità e vedete il maltempo con i temporali anche di forte intensità nel corso della nottata. Questa invece è la giornata di domani, domenica, domenica mi sa che ce la giochiamo, niente mare domani, però meno il mattino, poi il pomeriggio cambia un po'. Andiamo sulla protezione civile delle Marche, vediamo il bollettino di oggi, anche qui la grafica ci dice che nella seconda parte della giornata oggi avremo possibilità di locali priovaschi o brevi rovesci nel settore montano e collinare centro-settentrionale. Poi per quanto riguarda il vento, ci sarà vento da sud-ovest con moderata intensità, le temperature in aumento, ma è domenica, vedete il tempo sarà peggiore rispetto ad oggi e avremo rovescio temporali sparsi al mattino lungo la costa in spostamento da nord verso sud. I fenomeni si esauriranno in mattinata al centro-nord mentre continueranno con qualche piovasco durante il pomeriggio a sud della regione Marche. Le temperature sono in sensibile diminuzione, i venti moderati da nord a tratti forti lungo la fascia costiera e dunque di conseguenza il mare sarà molto mosso. Questa è la giornata di lunedì invece, il tempo torna ad essere sereno con temperature che saliranno di nuovo, i venti ancora di moderata intensità, tempo stabile comunque con temperature in graduale ripresa almeno fino a metà della prossima settimana. Andiamo invece adesso a vedere il nostro sito internet che ieri sera intorno alle 22.30 ha pubblicato la notizia di cronaca, che abbiamo pubblicato in prima pagina, il titolo è Fanese, minaccia di sterminare la famiglia con il fucile. Questa è la prima pagina del nostro sito occhioalanotizia.it che già da ieri sera è stato preso d'assalto per leggere nei dettagli poi questa notizia di cronaca, minaccia di sterminare la famiglia con il fucile, però un gruppo di ragazzini chiama la polizia e lo fa arrestare. È accaduto nel pomeriggio di oggi, ieri naturalmente, per chi legge, dove gli uomini della questura di Pesaro e del commissariato locale hanno messo le manette ai polsi ad un uomo di 35 anni, Fanese, che poche ore prima in un parco pubblico a Santa Maria dell'Arzilla aveva incontrato un gruppetto di ragazzini ai quali aveva confidato questo insano gesto da compiere nei confronti della convivente, più o meno alla stessa età, anche lei di Fano, con una figlioletta. I ragazzini si erano avvicinati a lui, a quest'uomo, in questo parco di Santa Maria dell'Arzilla, incuriositi anche dal suo modo di fare e soprattutto perché stava scrivendo, incidendo sugli alberi, sulle panchine del giardino i nomi appunto di questa donna e della figlia. A impressionare questi giovani è stato il fucile da caccia che l'uomo, questo 35enne, avrebbe mostrato loro con spavalderia dicendo adesso vado là e le ammazzo tutte e due. Insomma da lì poi i ragazzini bravissimi, questi ragazzi hanno chiamato il 113, poi la ricerca e tutto il resto troverete sul nostro sito internet occhianotizia.it. Andiamo adesso sul Corriere Adriatico invece. In apertura il problema che hanno i residenti alla Baia Flaminia di Pesero, che arrivati ormai a quasi fine dell'estate, insomma a metà di agosto, non ne possono più di questa movida, di tutto questo chiasso, frastuono, va bene l'estate, va bene il divertimento, però in tanti adesso si cominciano un po' a stancare e hanno già raccolto 150 firme per avere notti un po' più leggere, un po' più soft. C'è questo incontro con il Comune, sono oltre 150 le firme raccolte per dire basta l'assedio formato decibel di Baia Flaminia dove la musica che fa ballare la sera centinaia di ragazzi in spiaggia oppure nei locali e recepita al contrario come rumore fracassone e assordante dagli insonni residenti. Tutto è partito tre settimane fa da un comitato che ha riunito un gruppo di condomini. Poi la centropagine invece si parla di terremoto giovedì, cioè il primo anniversario giovedì prossimo, era il 24 di agosto quando la terra tremò, Errani verso l'uscita, più potere a Ceriscioli, cambio di governance, lunedì Summit, incontro a Palazzo Chigi. Poi su Banca Marche invece i PM chiedono di processare 17 ex dirigenti, ci sono 17 richieste di rinvio a giudizio, le hanno presentate al gruppo Carlo Cimini, i PM di Ancona al termine dell'inchiesta per il crack della vecchia Banca Marche e della controllata Medio Leasing. I reati ipotizzati vanno dalla bancarotta fraudolenta all'ostacolo, alla vigilanza di E' Falso in prospetto. Poi il calcio con l'allenatore del Fano Cuttone in versione Coppa Italia, l'allenatore chiede e vuole progressi dai suoi giocatori. Si parla invece il titolo in apertura della pagina di Fano delle nuove scogliere a Sassonia Sud, un investimento da 390 mila euro, in due fasi arriveranno 9 mila tonnellate di scogli, di intervento dalla foce del Metauro alla zona del Bersaglio, mentre la fotografia è per la scritta, che vedete sulla fotografia, vedete la scritta Albania, nelle mura del Pincio, le mura appena ripulite ma che sono state già deturpate, ma come ieri ci ha detto al telefono l'assessore dei lavori pubblici del Comune di Fano, Cristian Fanesi, insomma in collegamento ci ha detto che ci sono buone possibilità di prendere l'autore di questa scritta, perché le telecamere che sono state posizionate lì per il traffico, pare che abbiano e siano servite anche a riprendere qualche fotogramma di quello che potrebbe essere l'autore di questa opera d'arte, questa scritta. Andiamo adesso invece sulla pagina di Fano, in fondo c'è la notizia che rattristerà tanti, perché in tanti la conoscevamo, questa signora Sandra Marcheselli, che gestiva una storica profumeria a Fano, ma era anche l'anima del teatro locale, perché faceva parte della compagnia di teatro amatoriale La Polena, chi è che non si ricorda La Polena, che ha una certa età, avrà riso tanto con lei e anche con il resto del gruppo. Addio a Sandra, una vita tra palco e corso Matteotti, Dopo aver combattuto a lungo con una grave malattia, Sandra Marcheselli, che con il marito Mauro Tombari ha condiviso una vita fatta di musica, di teatro, di simpatia e animazione cittadina, se n'è andata l'altra sera al Santa Croce, era nata a Pesaro ma si era investita di fanesitudine, entrando a far parte appunto di questa compagnia teatrale. La Polena, il primo gruppo dialetale che negli anni 80 solcò appunto il palcoscenico del Politeama. I suoi funerali si terranno lunedì mattina alle 10 nella chiesa di San Cristoforo. Il ricordo in questo articolo di Massimo Foghetti. La cronaca ancora. A Fano, tra Lido e Chalet, serate di feste e controlli, la polizia ha arrestato quattro persone, ha fatto molte ispezioni anche nei locali, nei locali del mare e come vedete dalla fotografia la polizia ha anche recuperato parecchi fucili da caccia, una refurtiva, si tratta di una refurtiva, parecchi fucili da caccia e non solo. Insomma hanno fatto un bel lavoro durante tutte queste festività di Ferragosto. E poi c'è quel tentato omicidio a Pesaro, in una via di Pesaro, quella donna moldava che a un certo punto ha aggredito il compagno con un coltello e lo ha ferito gravemente, anche perché ancora è in ospedale, in rianimazione a Pesaro. Ieri c'è stata una conferenza stampa dei carabinieri nel comando provinciale. Il titolo è Quel fendente, dato per gelosia, poi la fuga per sparire a Londra. Infatti la donna, 32enne, è stata, dopo un'attività frenetica di ricerca, di indagine da parte dei carabinieri, del radiomobile, è stata bloccata all'aeroporto di Treviso, stava per partire, imbarcarsi e fuggire all'estero. Dove? A Londra. Ricostruito dai carabinieri l'accoltellamento di Verossi, la donna si giustifica e dice mi sono difesa. Adesso lei ha l'obbligo di dimora ed è a Fano. La Romanità, tornando a Fano, dov'è? Solo sui cartelloni che promuovono adesso la campagna abbonamenti per il Fano Calcio, per l'Alma. Augusto batte Rossini sul campo. Continua a far discutere questa scelta di mettere sul carro, su uno dei carri della prossima edizione del Carnevale di Fano, Rossini, Gioacchino Rossini. Il centrodestra si ribella dunque al carro pesarese, ma solo il calcio oggi punta forte sulle radici fanesi. E c'è anche la satira, la satira che si sta scatenando sul web con tanto di fotomontaggi. Qui vedete intanto, qui non c'è nessun fotomontaggio perché è la campagna che sta, è tuttora in corso della campagna abbonamenti del calcio. Mentre il fotomontaggio è qua. Se voi fate, adesso vi allargo la fotografia, ecco, è un fotomontaggio dove c'è il sindaco di Fano, Massimo Seri, seduto nel suo ufficio, mentre depenna le cose che ha fatto. Adesso non vi dico chi ha visto la vignetta originale, sa che c'è anche una parte un po' offensiva. Però insomma, dice più o meno così, ospedale di Fano svenduto, è come se stesse depennando le cose fatte con soddisfazione. Poi l'altra cosa, lo carnevale di Fano, svenduto. E poi c'è un'altra cosa che lasciamo stare. Però chi ha fatto il montaggio, vedete, nell'ufficio del sindaco ci ha messo nel computer lo screenshot del sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. Ha messo il gagliardetto, eccolo qua, della squadra di calcio che non è più quello del Fano, ma è, eccolo qua, quello della Vispesero, Ricci. Insomma, ci va giù pesante anche la satira. Il motore sono i volontari, invece ieri c'è stata la serata del Paese dei Balocchi, il motore sono i volontari. L'altra sera, anzi, la prima serata, con Roberto Rificini, ospite. Rificini è un nome conosciuto perché è stato il capo della protezione civile delle Marche e lo abbiamo sentito tante volte anche in occasione appunto del terremoto. Poi, sempre sul Corriere Adriatico, c'è questa foto curiosa, che tra l'altro è stata pubblicata su Facebook, una foto curiosa di una celebrazione eucaristica, di una messa, vedete, fatta nell'acqua a Fano. Una cerimonia alle 8 di mattina alla spiaggia dei Talenti per celebrare un venticinquesimo di matrimonio, un altare allestito direttamente in acqua e Donvi, che immagino stia per Don Vincenzo, in abito ecclesiastico messo a mollo. E dunque, si dice, scrive il Corriere Adriatico, le strade del Signore sono infinite, a volte pure bagnate. E adesso, invece, un altro sacerdote, ricordato ieri, in una grande e affollata cerimonia funebre, la grande eredità di Don Giorgio Giorgini, Giorgetti, scusate, cultura, semplicità e disponibilità, duomo gremito per l'addio al prete degli umili. E c'è stata l'omelia dell'arcivescovo Piero Coccia, che tra le altre cose ha parlato anche della scarsità di vocazioni sacerdotali. Sono sempre meno i sacerdoti, Monsignor Coccia lo ha ricordato, lo ha sottolineato, e bisognerebbe appunto chiedersi adesso anche il perché in questi ultimi tempi sono sempre meno le persone che decidono di consacrarsi a Dio totalmente, e quindi di diventare sacerdote. Turista rischia di annegare, la moglie si sente male. Sono due salvataggi in mare, a distanza di poche ore l'uno dall'altro, prima a Gabice, poi sotto la falesia del San Bartolo, verso Pesaro. Una bagnante è stata salvata appunto sotto la falesia del San Bartolo, la donna era stata colta da un attacco cardiaco, poi abbiamo visto che per fortuna si è ripresa e comunque è stata dimessa. Sulla pagina della Valle del Cesano, del Corriere, con le asfaltature per 40 mila euro, Cerasa dice addio all'isolamento. Le strade della frazione erano state martoriate dalle attività di disinnesco degli ordigni bellici, si interverrà sulle vie che avevano subito un carico di traffico eccezionale, dunque tutto tornerà meglio di com'era. Acquedotto invece, a Terre Roveresche, Orciano, Acquedotto-Colabrodo, pensate, 16 rotture, tutte nello stesso tratto, una raffica di segnalazioni, i residenti sognano un tubo nuovo, pensa come siamo messi. Probabilmente non solo per Orciano, dove proprio la rottura dell'acquedotto ha causato la voragine, per cui il ripristino si sta lavorando, ora dopo quasi due anni, con l'interruzione della provinciale che attraversa il paese. E questa è la fotografia della voragine spaventosa di Orciano. Stiamo parlando di due anni fa, e ancora sta lì, e ancora è tutto lì. Velocemente, gli ultimi titoli, da Senigallia, esplode la guerra dei tavolini, stoppa l'occupazione del suolo pubblico, il sindaco nega il permesso ad un locale, i commercianti chiedono un po' di tolleranza. Da Urbino invece, ormai lo scontro totale tra gli organizzatori della festa del Duca e il comune, è scontro totale tra il comune e l'Ars, Gambini, il sindaco dice, dato tanto, loro sono irriconoscenti nei nostri confronti, mentre Crispini, soldi a chiunque, ma non a noi. Insospettabile, invece, con la cocaina, ha segnalato la prefettura, Carabinieri in azione a Fossombrone, e poi l'ultima pagina, l'ultima pagina è quella per il capriolo Sofia, salvato e rilasciato. A Urbania, un giovane capriolino, ribattezzato Sofia, è stato trovato bagare, disorientato, ferito e impaurito per Urbania, è stato preso in cura da alcuni residenti che lo avevano sentito piangere, e poi, finalmente, un agente di polizia ha avvisato il CRAS, il centro del cupolo animali selvatici, che dopo averlo visitato, lo ha rilasciato in un luogo idoneo e sicuro, dunque, sta bene. Noi ci fermiamo qui, la rassegna stampa è finita, grazie per la vostra cortese attenzione, se avete segnalazioni da farci, scriveteci al 338 4968 250, questa sera c'è 7 per occhio, così come domani, 7 per occhio il sabato, è un'edizione che è pensata per tutti quelli che solitamente stanno fuori città o fuori regione, quindi ritornano per il fine settimana, c'è il meglio di della settimana, il meglio della settimana come notizie, però il sabato c'è anche in apertura la notizia del giorno, quindi c'è un'edizione aggiornata con la notizia principale del giorno e poi domani naturalmente la replica. Noi ci rivediamo lunedì mattina alle 7.30, puntuali, vi aspetto qui sul canale 17, arrivederci. Arrivederci.